Amici del software open source, benvenuti o bentornati in questa 179esima puntata del podcast di Marcosbox a commentare con voi come sempre le principali notizie dal mondo del software open source della settimana appena trascorsa. Anche questa è una puntata video come potete vedere dal mio bel faccino se mi seguite su YouTube. Se ancora non l'avete fatto vi invito a iscrivervi numerosi non soltanto al podcast ma anche al canale YouTube di Marcosbox. Mi trovate cercando quello del pacco sul canale YouTube di Marcosbox e oltre a postare le video puntate del podcast quindi audio più commento video delle notizie, troverete anche una serie di video, di approfondimenti, di recensioni riguardanti non soltanto software ma anche in alcuni casi alcuni prodotti che ogni tanto mi capitano per le mani è difficile di condividere con voi. Quindi iscrivetevi numerosi magari se riusciamo a portare i 1000 iscritti entro la fine del mese al canale YouTube mi farebbe molto piacere. Questa puntata del podcast è divisa in due parti, una prima parte dedicata a notizie riguardanti i software e una seconda parte dedicata a distribuzioni Linux. E iniziamo subito con le notizie riguardanti i programmi che si sono aggiornati in questa settimana. Il primo programma che ha visto un aggiornamento è Firefox, è stato rilasciato Firefox 125.0.2. Di solito io non vi parlo mai di rigasci di point release, di minor release di Firefox perché normalmente queste minor release di Firefox vanno soltanto a fixare alcune baguettine qua e là quindi non è che, come in questo caso, che fanno a togliere invece cose. Perché questa nuova versione di Firefox va a rimuovere una funzionalità che era stata aggiunta qualche giorno fa con il rilascio di Firefox 125.0.1 che era anche una funzionalità interessante perché andava a migliorare la sicurezza di Firefox. La funzionalità che è stata rimossa riguarda il blocco in maniera più proattiva di download da Google considerati potenzialmente non affidabili. Questa funzionalità si è scoperta con il test su larga scala dopo il rilascio di Firefox 125.0 sono state rilasciate alcune segnalazioni di bug da parte degli utenti si è scoperto che causava problemi imprevisti nel download di file in alcune situazioni. Per questo Mozilla ha deciso di rimuovere questa funzionalità e ha detto, è rimasta sul vago verrà riabilitata in una release futura. Speriamo che verrà rilasciata nei prossimi giorni una point release di Firefox 125 che va a riaggiungere questa funzionalità. Speriamo davvero che non venga poi aggiunta questa funzionalità troppo in là con il tempo che ne so con 127-128 di Firefox. Spero che sia una cosa facilmente risolvibile perché, ripeto, era una funzionalità interessante che aumenta la sicurezza del browser. quindi la volevo provare in alcune situazioni. Mannaggia a quelli di Mozilla. Che non fanno mai... Oh, però Mozilla è vero. Una volta mi sono preso anche le critiche da molti di voi che mi dicevano che cazzo dici perché è normale che uno poi i bug li scopri dopo. Però sembra che i bug li scoprono sempre in ritardo, quelli di Mozilla. Ma io preferirei andarci un po' con i piedi di piombo nel rilascio delle versioni testarli per bene, farli testare a un team che si occupa di queste cose, alla community, in modo tale da rilasciare un prodotto più stabile e esente da bug di questo genere. Si dovrebbe tornare come si faceva prima con i software. Prima erano più testati i software, ora invece siamo noi beta tester continui dei software. Vabbè, problemica a parte. Passiamo adesso ad un'altra notizia riguardante un software che si è aggiornato a Audacity, perché Audacity raggiunge la versione 3.5 che aggiunge il salvataggio in cloud dei progetti con una funzionalità davvero interessante e fighissima. Praticamente adesso, grazie a una partnership tra Audacity e il sito internet audio.com, possiamo lavorare da qualsiasi dispositivo, condividere e collaborare con gli altri e ripristinare eventualmente le versioni precedenti se qualcosa dovesse andare storto, le versioni precedenti dei nostri progetti. La partnership con il sito internet audio.com, questa funzionalità è integrata direttamente all'interno di Audacity, consta di praticamente tre piani. Ci sono tre piani che noi possiamo sfruttare per poter avere questa funzionalità. Ovviamente c'è un piano gratuito che offre 2 GB di cloud storage fino a 5 progetti per salvare e poi ci abbiamo i due piani a sottoscrizione. Ovviamente c'è il piano principale che cercano di propinarci che è quello da 6,99 al mese che offre fino a 250 GB di cloud storage ovviamente con progetti limitati e quello per i creatori di pro che offre 2 TB di cloud storage che costa 18,99 dollari al mese. È una funzionalità, mi avviso, interessantissima che rendono Audacity sempre migliore per tutti quanta quell'utenza che utilizza Audacity per lavorare, non soltanto per i progetti amatoriali come il sottoscritto quando utilizzava per registrare le puntate del podcast. Lì fuori, voi non vi credete, ma è pieno di creatori di contenuti sulle varie piattaforme, ma anche professionisti che utilizzano Audacity che ho visto utilizzare da tantissima gente perché è gratuito e io penso che se lo sapete utilizzare consente di fare diverse cose interessanti. Quindi non è soltanto un programma per noi smanettoni. Le altre novità di Audacity 3.5 riguardano il rilevamento automatico del tempo e il cambio di tonalità. Ovviamente per maggiori informazioni vi invito a leggere l'articolo dedicato sulle pagine del blog. Trovate anche un video che hanno realizzato quello di Audacity che vi spiega per sommi capi le nuove funzionalità. E pensiamo ad essere una notizia che mi è un po' difficile da commentare perché mi verrebbe da dire di fare alcuni commenti un po' cattiveri, però mi cerco di mantenermi. La notizia riguarda il rancio il rancio, ma no, forse c'ho fame a questo. Sono che? Cinque? No, non c'ho fame a questo. Perché ho detto rancio? Non lo so. Dicevo che riguarda il lancio di un nuovo browser web. Voi direte voi l'ennesimo browser web? Sì, l'ennesimo browser web. Perché ormai fare browser è diventato sport nazionale da parte di aziende e programmatori. Ma vediamo di capire un po' di che stiamo parlando. Perché hanno deciso di rilasciare un browser web e perché non hanno a questo punto deciso di fare tutto tramite estensioni. Effettivamente. Sarebbe stata la cosa più logica. Ecosia Ecosia moltissimi di voi di sicuro la conosceranno. È un'azienda tedesca senza scopo di lucro che sviluppa l'omonimo motore di ricerca eco-friendly. Mi è capitato di vedere gente che utilizzare Ecosia non soltanto noi smanettoni nerd ma anche gente comune. Io in particolare ho un paio di nemici che si sono messi da soli che sono tutti furcate nerd. E si sono messi da soli questo motore di ricerca perché in alcuni casi c'era uno che attenta alle tematiche ambientali il gatto non l'ho capito perché l'ha fatto perché possiede un iPhone quindi non mi sembra attento alle tematiche ambientali. Qual è la caratteristica di Ecosia? Qual è la caratteristica di questa azienda? Dedica praticamente il 100% dei profitti derivanti dalla pubblicità sulla piattaforma sul motore di ricerca di Ecosia ad azioni concrete per il clima di cui almeno con tanda dei progetti sono volti a progetti di riforestazione in più di 30 paesi del mondo quindi è una società che ha una mission quella di rendere migliorare il nostro mondo e lo fa in una maniera interessante quindi fa business in questa maniera e restituisce tutto a noi alla collettività. Adesso hanno deciso non soltanto di rilasciare le solite estensioni per i vari browser per firefox e per browser basati su chromium hanno deciso di farsi anche un browser web chiamato Ecosia browser basato su chromium che per adesso è disponibile soltanto per windows e mac os per adesso perché lo dico per adesso perché non ancora si sono pronunciati in futuro per una versione per linux io da buon blogger che attenta le tematiche nel mondo linux ho mandato una mail al team di Ecosia gli ho chiesto avete intenzione di rilasciare una versione per linux ma soprattutto dove posso trovare il codice sorgente avete intenzione di crescere il codice sorgente del browser adesso siamo oggi al 27 di aprile ho mandato mi sembra il 23 il 24 però adesso ancora non mi hanno risposto ma diamogli tempo non appena ci saranno maggiori informazioni se mi risponderanno vi troverete un articolo sulle pagine del blog qual è la caratteristica di questo browser la caratteristica di questo browser è che si prefigge di essere alimentato dal sole in che senso nel senso che Ecosia si impegna a produrre 25 watture di energia rinnovabile per ogni giorno che navighiamo praticamente l'energia che serve per alimentare una lampadina per 3 ore non sappiamo di quanti va una lampadina per 3 ore forse una di quella red lo shopping per un impatto che significa lo shopping per un impatto quando facciamo adesso acquisti mediante e cose a browser troviamo dei link sponsorizzati che vanno a sostenere progetti per il clima quindi aziende che eco-friendly con progetti per il clima e quant'altro quindi in questo modo supporteremo ulteriormente il clima infine troviamo un adblock integrato come sapete le funzionalità di adblock oltre a limitare anzi in alcuni casi rimuovere completamente gli annunci durante la navigazione del web sulle varie pagine non lo fate perché poi così rovinate anche i siti che meritano di essere supportati piccola parentesi che cosa significa avere un blocco della pubblicità all'interno del browser significa consumare meno dati e consumare meno energia quindi un win-win per tutti come potete vedere non sono stravolgimenti chissà a parte il fatto dell'alimentato del sole che si impegnano a produrre 25 wattore di energia rinnovabile per ogni giorno che navighiamo sono funzionalità che potrebbero essere comunque integrate anche mediante l'estensione attualmente l'estensione per Firefox se non ricordo male va soltanto a cambiare il motore di ricerca predefinito quindi non è che fa chissà che altro potevano magari regalare quelle funzionalità come i link acquisti sponsorizzati e la di blocco all'interno dell'estensione c'era bisogno di andare a fare un browser anche perché un browser ha bisogno di essere mantenuto e loro hanno la forza per mantenersi il browser non lo sappiamo lasciatemi voi un commento mettete un commento sotto qui sotto fatemi sapere che cosa ne pensate di questo browser web se magari avete intenzione di utilizzarlo su Windows e su macOS se secondo voi ha un perché se secondo voi ha senso di esistere un browser di questo tipo io non lo so delle volte vedo che certi progetti nascono però non riesco a capire se hanno davvero una se hanno fatto prima uno studio una vision nel lungo termine del perché per come mantenere una cosa del genere magari li fanno presi dall'entusiasmo nel momento non si rendono conto che magari la cosa potrebbe essere non necessaria comunque fatemi sapere ripeto voi nei commenti e passiamo adesso a parlare delle distribuzioni Linux alla parte finale di questa puntata la prima notizia riguarda il rilascio di Fedora Linux 40 la nuova major release di una delle distribuzioni più apprezzate della comunità Linux mondiale l'edizione principale la Fedora Workstation Edition offre Gnome che è aggiornato alla versione 46 quindi l'ultima versione di Gnome che ovviamente porta con sé diverse ottimizzazioni e miglioramenti delle prestazioni sia di Gnome e Shell ma anche di Files e File Manager la spin con KDE in cui da adesso KDE Plasma 6 con Wagan come sessione predefinita maggiore informazioni di entrambe le versioni di Fedora Linux 40 che trovate cliccando sui link che trovate nell'articolo dedicato l'altra novità principale di questa nuova versione è che Fedora 40 introduce il pacchetto PyTorch PyTorch è un framework popolare per il deep learning e può essere difficile da installare in modo affidabile con le giuste versioni drive libri e così via il team di Fedora ha deciso di integrare l'interno di Fedora in modo tale da rendere tutto più semplice da installare e gestire il pacchetto attuale supporta soltanto però l'esecuzione sulla CPU non è prevista per adesso l'accelerazione sulla GPU e sulla NPU che sono quelle che sono state introdotte da Intel la Neural Process of Unity questo però è il primo passo da parte di Fedora di aggiungere il supporto a PyTorch successivamente nelle versioni successive verrà ampliato l'obiettivo degli sviluppatori di Fedora è quello di produrre uno stack completo con PyTorch e anche altri strumenti popolari pronti a luso su un'ampia diciamo così varietà di hardware ovviamente sotto il cofano sono stati aggiunti sono stati aggiornati una serie di pacchetti e sono stati aggiornati i componenti principali con i kernel Linux che arriva alla versione 6.8 GCC che arriva alla versione 15 e Mesa che arriva alla versione 24.0 sulla pagina di Marcosbox trovate i link per poter scaricare le versioni principali e tutte quante le spin perché fa diverse spin ci sono anche le spin con Cinnamon c'è quella con Bagi che è mantenuta da uno degli sviluppatori di Bagi desktop quindi ne avete per tutti i gusti con Fedora anche se l'edizione principale è quella con Gnome quindi l'edizione più utilizzata anche se devo anche dirvi quest'altra cosa sto vedendo parecchie persone che stanno optando per Fedora Linux con KD Plasma perché non è più la cittadina di serie B come era in passato anche il fatto comice il fatto che l'hanno sempre costantemente aggiornata l'utilizzo di plasma cosa molto gradita da parte degli utenti che amano KDE è molto stabile mi dicono da regia io poi ancora non l'ho provata magari nei prossimi giorni la vedo di stare su macchina reale per farvi un commento sulla su registra e si è aggiornata anche Ubuntu perché c'è stato il rilascio di Ubuntu 24.04 che ti è il nome in codice Nobrenumbat la nuova distribuzione con supporto esteso la nuova LTS di Canonical alla base di questa nuova versione troviamo i kernel Linux 6.8 gnome 46 un nuovo tool per l'aggiornamento firmware chiamato firmware updater ovviamente troviamo il nuovo installer in flutter che non mi piace tanto ma ne parlerò più amanti di questa cosa troviamo hardware come server audio predefinito troviamo netplan e troviamo anche una nuova estensione che va a migliorare ulteriormente Ubuntu desktop che aggiunge il timing delle finestre con il quarto di finestra e cose del genere che è molto molto gradita questa cosa Ubuntu desktop perché è una cosa che mi piace molto di Canonical Canonical di la gnome 46 però non ve lo dà come mamma l'ha fatta vi offre preinstallate e preconfigurate una serie di estensioni che vada ad occlaterale al supporto per gli indicatori cosa buona e giusta e sempre sia godata perché è una cosa a mio avviso fondamentale quindi io per esempio sto registrando con OBS avere l'iconcina di OBS in alto con il pallino rosso che mi sta a indicare che sto registrando è utilissimo avere la notifica di telegram è utilissimo ma che su gnome non la vanno a mettere di tre volte questa cosa questa è una polemica che faccio ogni volta che parlo di gnome maledetta e l'oro comunque e quindi dicevo è stata aggiunta una nuova estensione che va a fare il quarto di finestra utilissima per chi si ritrova a lavorare vedete su schermi su schermi grandi e buona bgg per canonica che va incontro ai gusti degli utenti e li accontenta ovviamente non è stata rilasciata soltanto soltanto Ubuntu ma sono state rilasciate anche i suoi flerbursi ufficiali come ad esempio Kubuntu che però a questo giro non offre l'ultima versione di KDE Plasma ma viene rilasciato con KDE Plasma 5.27 nella fattispecie KDE Plasma 5.27.11 questo perché perché hanno deciso di puntare sulla stabilità KDE Plasma si è ormai è troppo giovane per poter essere incluso in un RTS ovviamente come da tradizione di Kubuntu quasi sicuramente uscirà in itinere un PPA aggiuntivo ufficiale per poter ragionare KDE Plasma qualora vogliate vivere on the edge quindi con l'ultima versione di KDE Plasma però se cercate qualcosa di stabile Kubuntu è una delle migliori soluzioni con KDE che troviamo più vediamo un po' che cosa troviamo qui Aruna Krita KDE Velo per gli acqua che sono mini sono state aggiornate e vabbè aggiornate LibreOffice Firefox e quant'altro fateci un pensierino se cercate una versione stabile di KDE una volta l'ho visto consigliare anche uno sviluppatore di KDE su Reddit che diceva gli avrei chiesto quale versione quale distro con KDE installare e dice se volete una cosa stabile puntate su Kubuntu è stata aggiornata poi anche Subuntu la versione con XFSE di Ubuntu questa nuova versione vede l'arrivo di XFSE al 4.18 che è l'ultima versione stabile di XFSE troviamo Gnome 46 qualche componente che è mutuato da Mate 1.26 perché Subuntu nell'ultimo periodo è un po' un minestrone di applicazioni e mi fa ridere ho evidenziato questa cosa qui all'interno delle note di rilascio su Ubuntu 24.04 e GTS hanno introdotto il nuovo app center per la gestione degli applicativi in formato snap e non troviamo però sulla distribuzione nessun applicativo che ci consente di installare in maniera grafica o doppio clic i programmi in punto deb GDB ve lo dovete installare a parte come vi consiglio nella guida ma ve ne parlerò più avanti di questo il tema di Xubuntu invece è stato più intelligente ha deciso di si introdurre snap store di introdurre un nuovo store per gestire i programmi in formato snap ma ha deciso anche di preinstallare GDB per la gestione dei pacchetti in formato deb perché Canonica non l'ha fatto sulla distribuzione a Miraglia boh io questa cosa non mi faccio capace GG a quelli di Xubuntu poi viceversa a quelli di Ubuntu basta proprio e vi parliamo prima che di Ubuntu e vi parliamo della guida che come di consueto è arrivata anche per questa nuova versione di Ubuntu è una guida post installazione che ho realizzato con una serie di consigli su cosa andare a installare per completare la vostra installazione di Ubuntu 24.04 LTS nella prima parte della guida vi spiego che cos'è che troviamo preinstallato e nei successivi capitoli divisi per tipologia vi faccio vedere come installare i codec multimediali caratteri aggiuntivi come installare GDB per la gestione dei pacchetti in formato deb come gestire il formato di AppMage se non volete utilizzare soltanto gli applicativi in formato snap vi do alcuni consigli su alcuni programmi di messaggistica su come installare i vari browser come completare la suite d'ufficio e quant'altro andatevi a leggere la guida che può essere una guida inutile per moltissimi di voi lettori che siete utenti navigati ma vi assicuro che giudicando anche dalle visite delle guide passate è una cosa che è molto utile per tutti quegli utenti che si affacciano la prima volta al mondo di Ubuntu e nel corso degli anni sono sempre stato ringraziato dai nuovi utenti per questa tipologia di guida quindi se trovate poi anche una cosa che vi chiedo se avete qualche consiglio su come perfezionare la guida su che cosa consigliare qualcosa che mi è sfuggito lasciate un commento al di sotto dell'articolo dedicato alla guida posto di installazione su Ubuntu 24.04 LTS così sarò ben lieto di aggiungerla direttamente alla guida la guida ufficiale perché contribuendo così si migliorano le cose per tutti quanti ecco questa ultima notizia si conclude qui questa 179esima puntata del podcast di Marcosbox io come sempre vi invito a seguirmi numerosi sui social mi trovate su Facebook X YouTube Podcast sulle principali piattaforme di podcasting mi trovate su LinkedIn con il mio profilo personale mi trovate su Mastodon mi trovate su Telegram soprattutto dove sono attivi un canale dedicato alle notizie al mondo di Marcosbox un canale dedicato alla community Telegram di Marcosbox a cui vi invito a iscrivervi numerosi dove si parla non soltanto di links ma si parla di tutto e un canale Telegram dedicato alle offerte Amazon sapete bene come funziona voi acquistate da uno dei link a filiazione e supporterete i blog in questa maniera perché Amazon mi darà una piccola percentuale sui vostri acquisti a voi non vi costa niente il prezzo rimane sempre quello però così potete supportare il blog potete supportare il blog anche rinnovando o acquistando una VPN nella fattispecie una VPN con NordVPN che da qualche tempo è partner del canale qui sotto in basso vi lascio il link all'offerta del momento e con questo è il concluso lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci rivediamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcus Box ciao ciao